aspetta no non è vero ah ma allora non mi descrivere le situazioni del game e poi rimango truffato, scusa adesso ti apro il pongo guarda te amici sono uscite le nostre magliette andate sul show se volete esattamente, quello qua c'è pierre che mi mette l'incipit però c'ho il flussante automatico e io lo accarezzo lo accarezzo con le mani pierre ne penso dell'acqua show me l'ho visto l'altro giorno che cosa? la xiaomi ha fatto anche l'acqua la xiaomi tanto sta facendo tutto prima o poi prima o poi vi venderà tutto ma che bella questa maglietta poi avremo la pasta ma probabilmente c'è già la pasta della xiaomi la xiaomi che carina come si gioina ah giusto ma amici sono le Funko Pop di Don't Starve si oh Marco guarda le Funko Pop guarda le Funko Pop ma guarda tra pattoni c'erano ancora le donazioni di ieri moro l'ammetto vabbè chissà adesso le vado a cambiare non sta zitto ogni volta abituatevi adesso per 8 mesi ogni mercoledì mattina dovrà sempre dire la stessa frase ma lo dico perchè c'è allora lo fai tu ricordatelo tu allora e perchè cambialo allora ah scusa cambio io per fifa no cambiate voi per fifa io non sono d'accordo tu non fai parte del canale quindi dai che se vuoi cambiare fifa per parlare di fifa non è che se io faccio la merda perchè da Moro intanto Moro Moro so tranquillamente che lui non sa neanche come si fa a cambiare ma a parte che è assolutamente sono il più esperto di dai di cazzi sei il più esperto l'ho trovato io dove era da cambiare ma l'ho fatto io l'ho fatto non è vero io ti avevo detto l'ivection ma l'ivection non c'entra un cazzo è solo una scorciatoia di merda una scorciatoia vuol dire che fai prima quindi sono un grande ma vado dal sito di marmo si? eh si amici ma i vestiti si cambiavano dalla da dove si cambiavano? ci vuole l'armadio vero? no non mi pare perchè io mi ricordo si poteva fare in un altro modo come si fa l'armadio? ma si immagino che non si è difficile da fare dai prova a cliccare su di te ho trovato dei guanti use now ma io sono un uomo di pelle aspetta 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 ma use now proprio per trovo dei gui del coso si ho trovato il pacchetto giornaliero io c'ho la faccia di merda c'ho ma c'hai? eh sono carino c'ho 44 di vita a massimo mi lascio l'ambito di morire magari no mi lascio la cosa la camicia bella eh non ti butti in mezzo ai ragni perché anche due volte così sei morto non è possibile allora chi è che ha fame? tu sei morto? io potrei avere della fame tieni moro vieni qua e poi senza i miei ragni cosa? ho qua due carote che? perché ti sei lamentato? non ho fatto no stavo guardando esprichè si stava tutto glitchando c'è una carota prende hai visto morelli che c'è addoresciuto di marmo? leggermente ma gli ezzar c'è? stavo entrando ma anche ieri era così ah è quasi anche ieri? ho visto amici vado a prendere le fecce io vado a ammazzare le rane sono rotto come i loro vado anche io ma tu dai sui miei rane eh prendi anche a volte per me ma già sera me serve ma dai ma da sera grazie ma sei partito come da sera scuso eh eh esprich che ti devo dire è sera eh? si vede che sono sempre tempo reale che ti devo dire è sera? è sera? fai del numero messo fai le trappole fai le trappole per gli uccelli che ci sono ah un codiglio un codiglio un coglione un coglino che c'ho? un coglione un coglino io c'ho un glande di ragno glande di ragno? oh ah vabbè ero morbido l'avevo dai ok ho fatto un po' di legno che palle sono andata a mettere bus io no sono abbastanza buono mi andrei a ammazzare cose che sono portati di notte non so perchè amici dobbiamo andare a trovare nel wormhole di moro che io non ho visto ancora dov'è eh? non ho visto ehm due poi ehm andiamo a fare il per il frigo trovare degli ingranaggi ah si sono due comunque uno sotto e uno sopra io mi sa che non ho visto nemmeno uno ancora ok buongiorno 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 grazie e le giochi grazie eh ma mi tolgo lo zaino eh si allora lo tolgo qua e non è comparso però ma non sta a suonare ma è sicuro che li hai tu usare ah no non è proprio neanche comparso no che cazzo Amici questo è il mio zaino, lo lascio qui Di fianco al portale Arrivano eh, hai sentito? Si 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 Sei pronto eh Sprit? Aspetto farete due lanci Spalla contro spalla eh Sprit Spalla contro spalla Lascio di lancia Liezzar equipaggiati di situazioni Come si fa l'armatura di log? Fai, io ho fatto la suite, quella con la paglia No dico in che cacchio si fa Ah quella ce l'ho aspetto In che cacchio si fa Fai Prendi l'arancia Prendi l'arancia L'arancia ce l'ho ancora una Ma io questo pure bene ragazzi Ma ne ho prese 7 adesso scusa E' la Battlespear Ah è meglio Non accendete troppo il fuoco che vanno a fumigare Ah è meglio Ma uno deve venire, ti prendi l'arancia in mano Ma io non ho un'arancia Ma c'è lì prendila Ma c'è lì prendila Qua per terra eh Qua Ah Quindi è potentissima questa Oh No gli fai più male delle cose nuove Marco potresti abbassare le telecamere Ah avete ragione Aspettate Massimo se avete poco i video Dove? Aaaaaa Aiuto amici stavo cambiando Io ho problemi sono corso via No no E' dato fuoco No ragazzi Ha preso fuoco Perché ha preso fuoco tutto? Ah ya ma qui brucia tutto Perché ha preso fuoco tutto così? Vengete lo zaino di chievo lo zaino E' mio Ma alzata non c'era entro niente tranquillo Non c'era entro niente Ho colpito Morto Ok a posto fuoco Ok a posto fuoco Vabbè è buono tanto aveva un bruciuto di qui Vabbè fatto 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 Aspettate Non tocco niente Non tocco niente Non tocco niente Non tocco nulla Non tocco nulla Vabbè più di così la vita non mi cala Menate se arrivano solo questo a voi Ok eh sui Se no ci saltiamo sopra Menate solo quelli vicino a voi A me non mi stanno attaccando Non capisco Ecco qua Ma che cazzo stavolta? Menato vai Posso? Le carni queste qua lasciamole ad appendere che poi le mangiamo Ma sono di mostro queste Eh le mangiamo anche meglio Le lasci essiccare e poi le puoi Non lo so non mi ricordo Mi ricordo che si potevano essiccare e facevi roba Comunque eh Se vedete che c'è un po' di fumo tipo sull'oggetto Sta prendendo fuoco Si sta per prendere fuoco Si sta per prendere fuoco Puoi che spegnerla però eh Aspettate si è attivato Ok amici E' un attimo di cagamento Ma gli zaini perché non li raccogliete? E' perché c'è non posso Se mi mettono la nuova Non posso mettere la cagata addosso C'avete voi Aspetta com'è che si faceva lo zaino adesso? Posso condividere anch'io l'elmo Perché ho anche che è fortissimo C'è il mio elmo Io Marco ho 189 di vita 189? Si Ah ma perché ti sale la vita con le cose che indossi? Io c'ho 24 No no E' bisogno di aver fatto così il personaggio proprio C'ho 7 C'ho 7 di carne io Quindi la dovevo mettere ad essiccare pian piano E voi fai di più di uno che hai siccato Qui c'è anche un'accetta e un forcone per terra Ehi Eh sono i miei sono Ero lo zaino Iezar col forcone puoi prendere zolle di terra eh Eh lo so Gli altri biomi E mi dice che purtroppo mi dice che il lupo rosso non bruciava e dava qualcosa secondo me Così non dava Delle scarpe di merda ho trovato Delle scarpe di merda no? Delle scarpe di merda Come siamo un pochino stamattina? Come mai? Ma perché il gatto non ho ancora mai dato? Ah ma vero c'è ancora un gatto infatti mi sembrava strano Dovrà finire... Dovrà finire... Zezza probabilmente Sì sì Amici c'è altra pelliccia qua la prendo tutta io Vedi pietro vedi pietro vedi pietro Poi la metto nella cassa dell'inverno Ora Ascolta No vai via Quattro lagchetti e me ne inclinarà la naitre qua Ce ne erano altri da questa parte Amici ho un problema in questa live Il gatto ha detto che non vi vuole raidare bene o meno La cosa che... cosa stavo dicendo? C'ho un problema oggi Devo fare la cacca Da quando abbiamo iniziato una live quindi La farò tutta col sedere chiuso questa live Anche perché è aperto non mi sembra il caso Perché dovrei tenerlo aperto Non vedo una... Abbiamo quasi finito le ragnadelle però Ormai ti scon subito Tana Quindi devo andare a caccia mi state dicendo Devi cacciare i tuoi simili Cercheri di non morire però magari Fatti a mano per morire Ah beh va Grazie per l'informazione Mark Figurati Meltzer Mattel Fatti a cacciare l'armatura per morire Grazie Giovannino No non mi sono bloccato l'armatura Ho sbagliato C'ho 40 di vita Eh ma non ti cala la vita subito con l'armatura Almeno per prendere un colpo senza morire Ah si ma chi se ne fotte Mangio tutto mandorino Fotto 20 volte basta Allora io andrei Ma c'è un maiale qua Andrei quasi verso destra Ah maiale innanzitutto Sarai tu Un forco Un altarino Mark Mark senza te non riesco a smettere di ascoltare He-Man and the Masters of the Union Sono contento Sono contento Ma tanti non la conoscevano Dimmi Ho fatto un altare con una roba Non possibile Roba che? Una rosa Una rosa Mai visto in vita mia Non so come mai tanti non conoscessero He-Man and the Masters of the Union E' una delle mie preferite di qua Ah gli aveva fatto bene E' una rosa colpita He-Man and the Masters of the Union E' una rosa colpita Aia Faccio un pietra no? Aia Magia No Finito già Oh gli ho racconto il tuo Quanti conigli abbiamo preso qua Eh si Ehm Allora io volevo Questa zona la sto esplorando adesso ok Mi spara un pochino Zoe nuove perchè Io ho perso Ho perso 18 mesi Cosa vuol dire Polipotondo No si possono perdere Non si possono perdere i mesi Ah di sub dici E non si può comunque Comunque Mark quando rifarei la live musicale Altre canzoni scabastiche E' amici l'ho fatta già due volte di fila Alla prossima giochiamo un po' a qualcosa Intanto che aspettiamo l'uscita dei giochi Nintendo Sono bellissime eh Mi piacciono un sacco anche a me però E' un scheletro 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 Non si possono levare in qualche modo Si Il martello mi sa anche quelli sai Il martello Mi pare che si possono martellare Adesso non vorrei di una stupidaggine però Il martello Si vediamo cosa è il martello C'è te lo scheletro lì E' un scheletro lì Andrò Farò un campo qui Buonasera No ma se avrò una maria di fiori Perché sennò non posso neanche mangiare il coniglio Cosa? Perché no? Perché lo vede come Anche Pier Ma spesso lo faccio? E mi fa schifo Spesso lo faccio? E mi ricala di brutto la sabbia Allora lì come stai tuo orto? Sto delineando Eh? Perché si deve coltivare l'orto sempre Con la chiamata in testa Ha capito? Ma non faccia di cazzo Gatto ci sta spruzzando Grazie gatto Da gatto Grazie per il ribes Ah si vedi ma posso romperli Spaccali Buttali fuori dal ring Attaccali Buttali fuori dal ring Si io mi fermassi qui Posso fare il fuoco Non posso fare il fuoco Vieni la cassa qui Io lo faccio qua al fuoco Si Quello provvisorio Ma non trovo da soli questa notte Ma non trovo fiori Allora Eh sono tutti in alto Eh ma sono andato Non riesce a vedere Cos'è il papiro che hai trovato? Oh E' vuoto eh? Si Sarebbe per far roba Beat'n'biter La spada suprema che questo è sull'antico potere Ottim gatto Ha beat'n'biter E' il... E' lo sbattitore Lo sbattitore Cosa è lo sbattitore? Lo sbattitore Si lo sbattitore E' giusto cretini Lo sbattitore Lo sbattitore E non so cos'è Non so Quello può sbattere le uova Le uova Ah proprio quello Ma si fa su don't serve? Eh no ce l'abbiamo già Ah Ah è vero le lettature Vedi per te Non ho visto Sono cresciuti i cibi qua Allora questo Il dragon fruit Posso fare un drone Posso fare? Un drone Tranquillo gatto Non ti preoccupare Il gatto E' finita bene? Capita ogni tanto 88 di fame Stiamo davanti al fuoco che recuperiamo un po' di sanità Non faccio niente stanotte Io questa notte neanche Marco Come la notte prima No domani Allora L'indomani La prossima giornata vado tutto a destra Io che c'ho un botto di fiori Tutto a destra E ci sono i castagni lì Io invece vado qua in questa zona No io sono messo una male di nuovo Passando da qua Sopra qua c'è altra roba Via 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 tornatevi nel vostro paese Come? Perché la lancia quando l'hai raccolta? Ah Ecco dove era Lo la trovavo Via Che palle sti gazzi Che palle sti gazzi Ok Siamo presentati al Penso di stacca da questo Tanto che se non è così caldo Tutto secco All'autunno Adesso pensiamo Questo deve fare il dragon fruit cotto però E anche il melograno cotto Ma è questo autunno morello Mi ti rompe la palla Magari questo è l'autunno Prossimo di inverno Quindi moriamo Può essere eh Beh si sta accorciando le giornate quindi si Vabbè tanto stiamo lavorando apposta Per fare le cose Si il fuoco si sta quasi spenti E io non ho le Mettici il tuu Cosa hai detto eh Sento tutto nel fuoco Sento tutto Grazie Spartan Grazie Spartan Grazie Spartan Oh ma stanotte senti il lungo e me ne ho te coglioni Grazie mille Nuova sub tra l'altro Grazie Ma l'ho sentito? Grazie Mangio Mangio Scusami Alex Mangio Ah Rumors volevi scrivere Che paura Ehm 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 No Divorziato No Ciao Francisca Poi chi si prende il figlio? E chi è il figlio? Sei tu il figlio Oh no Fatemi fare una cosa che me la porto dietro e questa alimenta un bel po' Ma lì qua si deve prendere la cosa qua la carne si scatta Ah beh devo farmi un'altra Ghirlanda che palla Ohhhhh Grazie Spartan Mariello propapappo Non metti niente Non metti niente Fiori solo fiori Qua ce ne sono alcune E non so dov'è il qua Sono ovunque in zone verbi comunque Puoi salire un po' di sanità Eh ovunque mica tanto Ohhhh Si lo so Allora Io la uso per alimentare il fuoco però si si può usare anche in quel modo Ma non te la vedo più lunga ma può essere Si si è più lunga Eh no è più lunga Polipo di sapone grazie Polipo Ok Grazie Polipo Grazie mille Allora adesso facciamo il giretto che vi dicevo Andiamo in questa zona Eccoli Eccoli Pacchetta Bravo Moro Sempre meglio Apro un pacchettino Ieri hai detto Godin Cioè Ti sono emozionato? Un po' si Cacaua Non conosco quello Sì Prima di merda l'ho trovato comunque Ok andiamo di qua Come si riesce da qua? Un datter Una palpa Una pannocchia qua se lo vedete Prendiamoci Qui Non posso mangiare dal loro Qual è lo scopo del gioco? Sopravvivere Oh a te ma I corvi ci buono il cibo dalle farm Scusa Eh Spaccali Buttali fuori dal ring Eh lo spaventa Cazzi dov'è? Ma ci sono tre stagni qua Eccolo Oh quanti fiori Si guardali qua Lo spaventa passeri Fammi Risalare la sanità C'è una Moro ti porto della carne di ragno Ma è male Si Ma è benata la zucca Mi sono scoperto da questo io Per quanto la zucca è potentemente ravanato eh Eh? Se ne si vede la zucca si vede morendo Eccolo che passeri Ma questo sarà Moro? Chi è? Chi è? Nel futuro è moro si il cadavere di moro può essere e hai una lancia pure addosso ma bestia ma mi sono caricato sulle spalle una colonna di marmo al posto si 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 l'ho trovata quando mi buttava giù lo zaino quindi l'ho lasciato lì moro sto farmando le i ragni so già che farò una cacata vieni qua vieni qua vieni qua allora non calmo adesso dove sta? dove sta? picc'altro magari la colonna di marmo sarà da portarla a qualche parte ah si via tutto perché non siamo ancora andati ma non me lo credo mai non è vero guarda poi siamo andate le partite è stata la live migliore che abbiamo fatto in tutti i tempi di fifa è stata la migliore quella di fifa si è stata molto molto bella abbiamo sfondato il culo proprio ma bestialmente amici ho preso un po' di ragnatele forse mi sta lontando troppo qua se ne possono farmare altre comunque volendo ora la gugliendo lo fioro ma te ingurre vabbè c'è un coso che sta dormendo cosa è sto schifo che sta dormendo questo urbano che sta dormendo sono delle zucca no sono delle cose delle palle che dormono con dei denti tipo conigli forse non mi viene svegliato ma magari li sto vedendo male io perché ho la sanità bassa ma chi sei tu ma sei simpaticissimo ma niente ho stato tornato via ma sta già diventando tramonto aspetto faccio il giro così ho quasi la sanità al massimo adesso ma quando c'è tanti voi conigli ma il cazzo si può mangiare io in alto a sinistra poi adesso sto tornando per divino dove sei andato sono tutto in alto probabilmente ho fatto una caccata siamo andati a scuola veramente ognuno i falli suoi vabbè non ci sta vabbè in realtà non è male sì sì guerriero morelli beh se siete lontani iniziate a tornare se no non ce la fai ovviamente ho fatto una caccata ma io sono salvo ma io non ce la faccio di certo vai tanto tu con un colpo sei morto lo stesso vedete quanto alimenta questo io ammattuti invece è gta gta stavo pensando a una cosa però è che è un po' infattibile in realtà per come ho strutturato gta però eh io non so è in trigone che vogliamo fare giocare con i sub il problema è che fare la crew con i sub è quasi impossibile eh purtroppo sì ho mangiato tutto quello che avevo purtroppo sì è perché altro non c'è modo per verificare se siete su finalmente riesco a vedervi live a quest'ora ciao termogigoni gagvista effettivamente è un bel bel pokemon bondi vi seguo da casa nuova scusate per le mot a cazzo se ieri eh joker è un casino se ieri Luke che ci ha messo per cosa ha messo un gioco molto simile alla a gang beast però è ancora in alfissima quindi niente però sembrava figo ma c'è il fuoco spiego fai le attività e giri a caso gatto come al solito io vado a spavare come le due gioca assieme si fa no è più che altro giusto un altro gioco per giocare in più con i sub ovviamente non si farebbe tutti i giorni si farebbe due volte al mese il problema è che non si può anche perché solo quei tutti i giorni poi fai sempre il sistema il problema è che puoi farlo una volta cioè puoi dare il link della crew ai sub la prima volta e poi dopo basta perché dopo tutti vedono il nome eh già cioè devi ricrearla e devi farlo prima non è che lo puoi fare allora amici a sto punto cucino prendo tutti i semini e poi ne prendo altri ma anche io ma guarda a me danno un sacco quei li prendo un altro ah sta arrivando la noce puttana ma sono solo io in casa c'è più da mangiare oi cactus è vero sono solo io qua ah no mi danno sega fuoco di vampa sono morto ma che non è possibile vabbè adesso salga vuoi sempre morelli per me possibile tanto mangiare ok ho capito quale è il cibo che mi da di più a me i juicy birdies mi danno veramente ho sentito dei cani o sbaglio? avete visto il fatto che vergogna per la musica italiana no non lo sto seguendo il fatto che hanno fatto che vergogna per la musica italiana no 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 siamo un po' eccessivi moro non c'ho niente per alimentare il fuoco io vorrei usare puttici te stesso vorrei basta punto no ho sbagliato ma che cazzo l'ho mangiato gli altri anni guardavo qualcos'io mangiato lo schifo che alimenta il fuoco il rot ah il mio paio mi voglio rubare il fuoco ti preto pensare più grande è più bene per noi ho di scala 40 con il suo fatta bellissima assolutamente dovremmo farla la briscola facciamo dai qualche volta io voglio giocarci a scopo briscola si fantastico ma se sei un coglione sei ma sono fortissimi a quei giochi tu so tu so tu so buonasera felix un deficiente comunque ma guarda comunque io sono sicuro che il continuare a dire buonasera anche la mattina ci si ritorcerà contro un giorno a voglia anche a voi in chat non solo a noi smincherà la testa completamente venitemi a dire che non vi è capitato di dirlo in una situazione più seria che è successo ai colori del giorno allora si sono usciti i pinguini dall'acqua e sono qua con me stiamo camminando assieme posso ucciderli? no non voglio ucciderli posso ma non voglio pure mangi in inverno che adesso non fottuto ma quindi mi sa che ogni stagione dura dieci giorni quindi è inverno adesso? si dura dieci giorni ogni stagione non mi attaccano ma sono divertentissimi io li voglio portare come sempre no dieci perché sono passati dall'estate poi ho passato alla turno adesso c'è l'inverno tutti altezzosi guardate voglio fare amicizia con voi ecco i pinguini vieni faccio accarazzare ma quindi mi devo mettere il capo che se no mi viene il cagotto faccio accarazzare non lo so però non lo segna niente non lo segna e ora non vieni qua va bene forca miseria faccio accarazzare dammi amore adesso devo andare a pescare ho muoio di fame i due rane guarda se ci sono i conigli ti strizzo la mozza vieni qua perché faccio più una fredda che una pesca puoi scorrere sì quello sì ma non posso combattere la mia sanità mi treva sarebbe un problema Skyne direi che è inverno comunque amici o comunque siamo autunno no mi sa che è più inverno che foresta fitta che ho trovato ma dove caspita sono ragazzi ok lì c'è il wormhole devo iniziare a tornare il boomerang io l'avevo fatto mamma mia sono anche qua ma ciao amici ciao tu ti chiamerai Luca tu Giovanni tu Pippo tu sei stranissimo è così sbagliato tu sei Galca tu sei Pollo però sono Marco e sono tutti Pollo ma basta che vai vicino al mare dopo un po' esco ah dal mare eh dai fiumi quello lì quello lì più simpatico lo chiamo Peppe di Palle perché non lo so non mi vedrai mai sono in un posto ecco le guarda mi sono spawnati ma spawn uno dal lato ho trovato un picchione eh dei trichechi con dei cani dietro scappa gli tirano i pugni ma come no 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 anche a me mi spacca la faccia aiutami e scappa ma il tricheco mi sputa sono morto ma dai Marco purtroppo no era impossibile erano più veloci di me ma ci sono i conigli ghiacciati ah ma quindi sono i loro cani sono i cani dei trichechi ma come è possibile amici dobbiamo venire su tutti assieme che avevo un botto di robe dovete aiutare eh ho capito sono lontano adesso Marco io non ci vengo Marco io non ci vengo ecco io tu ho un numero di fa in pieno di tutto poi arrivo allora lagnatele vediamo lagnatele no no più che altro c'era anche l'accendino amici mi dovete aiutare problema Marco vabbè venite con me comunque che è un po' ma ci facciamo adesso adesso non ci ammazziamo tutti i trichechi tranquilli non ce la fai eh ma adesso ci sono i trichechi giganti che ti tirano i pugni hanno le cerbottane adesso non la si come hanno le cerbottane ma le cerbottane ti sputano ma è freddissimo mi si è congelato lo schermo adesso si è vero che posso andare sull'acqua è mo ah ma sono stupido da tornare indietro amici questo l'hai ripreso dai denti mi torna il boomeranghiede mi va per i testi allora io c'ho un botto di conigli qui è pieno di conigli effettivamente è di cucino Esprit che mi occupano uno slot di inventario l'uno ma quanto buio ah mi torna giù ma sarà ma io ho sto bug eh si ah ma la vita è nerfata per sempre adesso ma io ho di nuovo ma come si fa metto il cappellino amici venite con me adesso no aspettiamo un massimo di un uomo ma culli bastardi io non ci vengo comunque poi fa freddo adesso no che c'ho l'accendia non ci serve l'accendia ma basta avere la torcia non ho più niente io amici grazie Mattia grazie Mattia oniglio senti questa è per voi che io non posso mangiare le strade qua dove l'hai messo i cappellini sono in alto a destra io non lo metto io sto vicino al fuoco per sempre non gioco più praticamente eh però mi toglie la ghirlanda che pezzo eh si si consumano i cappelli si si consumano i cappelli pure quindi metto un tempo questo qua vabbè adesso non serve che stiamo vicino al fuoco ok boom è andato schifo effettivamente adesso non mi serve il boom non è male va a proteggere il fatto che se vuoi dire ottimo aiuto il male amici mi date qualcosa per difendere ma il fritto non diamo no ehi dobbiamo iniziare a pescare ma il bagnozzo ma porca vaca non posso neanche alimentare il fuoco non c'ho niente farlo io fatevi la thermal stone per il freddo aiutano si dovremmo farle qua tutte in giro ma poi quella lì basta tenerla nell'inventario come funziona no mette più in terra mi sembra no alimentario in più che dovessi alimentario? è la pannocchia comunque eh Artemio grazie mille grazie Artemio grazie Artemio of Katarina la pannocchia non voglio io hai pop code io ho un botto di cibo eh comunque non so se ok perfetto quindi prendo la thermal datemi qualcosa in caso eh adesso ti do tutto Marco eh io non so più niente quindi ho la sanità mentale a metà il stomaco a metà la vita che ci fa c'è chi sta peggio comunque però poi io dove sei Marco? eh la vita nera può essere recuperata sicuramente Marco prendi questa faccio delle silinghe se vanno grazie adesso fammi cuocere le robe adesso sei carote le dole pro bastarti si ho recuperato già sono a 68 di vita 150 di stomaco thermal stone è facile da fare quest'amore eh più che altro devi ricaricarla vicino al fuoco esperitandetto la metti vicino al fuoco la ricarichi di calore poi te la metti in tasca le pietre ormai non ne abbiamo scusatemi amici ci ci sono l'anno cibo le pietre ormai non ne abbiamo pietre proprio pietre? io le avevo non ce ne sono niente un po' né a cassa le pietre ormai non io ce ne ho un po' io anche la pietre ormai non ne abbiamo quale festa? racco mi fate altri essicatori mi va male la carne eh non so c'era il carbone ma c'era adesso andiamo a prendere solo due lo faccio io il carbone prima dobbiamo recuperare tutto basta fare la torcia per marco l'accendino non serve un affare no 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 l'accendino è molto meglio dura molto di più ma si però cioè non è che si fa comunque ma poi devi fare la torcia che palle che ti occupa guarda questa per terra la metto qua si scalda devi ricaricarla vicino al fuoco si è puntata? no eccola vedi è gialla adesso la prendi in teoria e te la metti in tasca quando dobbiamo andare via ok sensata come cosa se la scaldo di più ma ci la fai un po' il thermal stone dovete farlo anche voi come si fa? dov'è? no che altro dov'è? è diventata rossa mi metterò bene la metterò bene la metterò nella cassa e li metto allora la thermal stone vi date qualcosa per difendere survival è un zaino è un arancione marco aspetta su una lancia del cazzo è un arancione è un arancione è un arancione ma io non posso farla perché? ah ah la scena ma scusa ma a me non dovrebbe servire amici venite con me aspettate eh però mi diceva che mi servo io ma chi è che ha preso chi è che ha preso lo scettro di chester? io non l'ho preso no scettro di chester? io no ah mi sa che l'ha rubato allora oh ma è la manina passava di lì magari la fredda penso io non ce l'ho avete alimentare l'avete dietro io non ce l'ho anche perché c'è tutto vuoto quindi allora amici venite con me no c'ho cinque rot amici venite qua e che? eh andiamo per recuperarmi la roba che c'ho veramente ma mi sono mangiato tutto rot al posto di darlo al fuoco niente e proviamo eh ma io non so se voglio venire lanciate in mezzo posso romperla sta lancia posso bruciarla nel fuoco da solo lancio la sta lancia tutto cagare adesso no io c'ho e il mio problema è che no devo prendere carne io cioè io sto muovendo di fame in questo momento e adesso facciamo ma la carne ce l'ho io ce l'ho cioè no ah si aspetta no ce l'ho invece esprit mi stai seguendo sto arrivando io dai che se no si fa notte veloce è il caso preparato per fare un fuoco vabbè ma adesso andiamo troviamo qualcosa intanto se vuoi di farlo io non posso arrivare Marco devi mangiare fai un pochino no ecco fatto ma infatti moriamo tutti il ser Matteo ma a me basta che prendo la roba e me ne vado ah io sto congelando come metti il cappellino e dovete mettervi il cappellino no io c'ho la termastorno non mi dò Mauro perché non hai preso il cappellino perché io sono morto Marco sono un morto che cammina che cappellino vuoi ce l'ho io ce l'ho non lo voglio ma ti incurio ma cosa mi scende con il freddo la vita ma sì ma poco dov'è Marco? eh dopo dopo parlo raccolgo tutto ma voody voody no hey spirit mostraci un cappello non so se voglio vederlo io voglio grazie voody ma quanto cazzo c'è andato distante a morire eh ma perché ho passato la notte fuori buody buody queste possiamo ammazzarle però ma quanta roba stanno lasciando ma mi dovete solo aiutare quelle sono le uova dei pinguini le possiamo fottere le tici nucleari ho sbagliato posto mi sa non era questo il ghiaccio ma mortadella di cacca è qua a destra quanto vedrai bene la mappa scusi ah sì è qua a destra amici eh no perché mi sono confuso con le zone perché sono stato anche qua e mi sono confuso esatto questa è la foresta fitta adesso sto morendo mi dai il cappello qualcuno? dai il cappello aspetta che qui c'è la foresta non vedo eh si vede un cacchio mi sta scendendo velocissimo dammi il cappello dammi il cappello non è il cappello è la termastoria ma sto l'utilizzo ma fatela anche voi eccoli attenti attenti stateli lontano ma sono scozzesi ma perché sono scozzesi occhio che spuntano ecco cacca dove è? e non andare Marco no niente è possibile ragazzi ma è possibile mi sciottano ma mi sciottano ma basta ucciderlo ma non riesce a ucciderli Moro no no ma tornati indietro no ragazzi niente vabbè non le recupereremo mai ste cose sono morto anche io è merda adesso io sono ammazzato non sono morto ma sono scappato via vieni giù scappato via allora è niente vabbè su un cane ma troppo un cane blu mi ha dato ma sto si ma sto ti trevo ti trevo ti trevo ha troppa range cioè guarda è affanculo si ammazzato pensiamo che tutti assieme è riuscissimo si ammazzato Io gioco Eh da devono fare un bel po' di pezzo Secondo me Ma che cacchio Perché un sacco di gente si sta lamentando di FIFA Quest'anno Noi non ci stiamo trovando male su Pro Club Sì ma sono davvero delle robe che Autogol Venuti fuori a caso Fuori giochi che non venivano fischiati Mi sono già visto tantissimo A me la stone Ma io non ho freddo adesso Ma forse non sono le chiacce Eh ma amici ma quindi io non potrò mai recuperare le mie cose Ma mi fanno un fuoco io sono Ma io sono arrivato Grazie a me lao Ah adesso fa freddo Il fatto è che io ho perso anche il cappellino E le ragnatelle le avevo prese Ma sono morto lì Ah docio non scaldo ovviamente Puoi aspettare alla fine No c'è fuoco spento E' l'unica ragazzi Ah Ma c'era Stavo rischiando di non stare Veramente l'unica Allora Stiamo un tempo a casa E' un tempo io prima Ma è cambiato il portale Non mi pare Aveva tutto sto rosso prima Amici ma qualcuno ci dice come recuperare l'energia nera Lo sapete Non credo si fosse No no si può Si può Si può sicuramente Ah no dicevano Non mi ricordo come l'avevate detto La siringa Fatemi prendere la pietra Ma io non ho più vita Porca vacca Legna ce n'avete Ah ma non serve mettere giù la roccia Comunque la termarstone Si ricarica anche se ce l'hai nell'inventario Perché figo Qua c'è termarstone martinaggio Il booster shot Ah serve rotto Si che ha preso tutto il flint 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 Ma che ha preso tutto il flint Si lo presi io E non so come si fa E non so come si fa E non so come si fa Control Control Presi che poi clicchi Ah ok Tieni Te ne butto Ho rotto i coglioni sti qua Ma che dammi e basta Comunque Con ste mani di merda Un po' che puttacca Tutte le barbilla Si sta caricando No non era qua sbagliato Si si sta caricando Marco ti potete tenere termarstone tieni La locusta grazie Lo stinker ce l'abbiamo E grazie anche al ghenos Ghenos grazie mille Grazie Trova che non hai finito termarstone No non hai finito Però vabbè ci vuole poco Mi ha controllato Mi ha consumato in una giornata Il 12% No no è che si raffredda dietro Si si no Però mi è arrivata fino a quasi a sera No mi è arrivata Fino a quasi a sera Poi vabbè Io devo mangiare un sacco Quindi mi serve E la niente non ne abbiamo è vero? No Eh ma io La carne te l'ho data tutta Quella che c'avevo No anche qui Poi vai a vedere I conigli Perchè Ci avevo messo un sacco di carote Dovrebbero essere Ma non posso andare avanti così Però devo pescare per forza Perchè pescare siamo due Di niente Perchè pescare la barba temorelli E? Eh? Ma no in realtà Non si dovrebbe resettare quello lì Però non sta crescendo Ma lei c'è pochissima vita Ma non è che cosa Che male devo Oh ma non ho te coglioni sti cosi eh La sanità mentale Ti carino Fatevi il pentolone per il cibo Con poco vi riempie lo stomaco Eh dovremmo farcelo il croppot Eh poi bisogna prenderla sulla cucina C'è una c'è dentro anche in fuori Vabbè ma lì vediamo C'è bella colpazione E la ziiiippa di verdure La ziiiippa di verdure E poi servono 6 di carbone Tanto non c'ho un cazzo da perdere Provo ad andare a vedere Quali che li ho presi qua? La siringa come si fa Moro? Servono 8 rot Quindi 8 roba marcia E uno ne ho io E come si faccia la roba marcia? Eh aspetti che scade E uno ce l'ho io di marcia E uno di rot E ne servono 8 E io ne ho 7 E io ne ho 7 Io ne ho 7 di roba di rot Dabbè forse ne ho due Nevevo bastarmi NEVICA Perca purtana è troppo freddo Tieni a spri Vieni qua No La lascio qui Ragazzi Vediamo se verdure magari qualcosa Io devo andare a prendermi qualcosa Cerchiamo sta carne Mi date della legna? E' possibile darmi della legna? Vabbè non importa Non importa Devo ammazzare i ragni Perché devo curarmi Per curarmi Prima di andare nella morte C'erano delle cose di ragni Per curarmi Sono quasi morto di freddo C'ho 9 di vita Per curarmi Morelli Come ragazzi si faceva Questo Ah guarda Non vuol dire a me Ma no Per curarmi Io non lo uso Instagram browser Eh si Ma ti da tipo Neanche 20 di vita No guarda c'è Magic Pizzacando Magic Sì sì Erano di Queen Il papiro La... Onipultis Esprit Con il papiro E due di... Ehm... Due cazzi Come si chiama lì Ehm... 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 Il rotto Sì ne ho 7 Sì ne ho 7 A posto Liesa Sì ma... Sono lontano adesso Vabbè comunque Aspetta Proviamo a farlo Morelli Adesso io ho 29 di vita Eh... Vi curo Qui servirebbe del fuel Comunque 58 di vita Ehm... E la roba marcia Fata ottimo Ci trovi un papiro E 30 Trovi un papiro Possiamo fare... Ehm... Sapete qual'è il problema, amici? I... Semi Io non ne ho più Eh... Eh... E adesso non ci sono Porca puttana Morelli Ma spegni tutto Ma come spegni tutto? Ah... Porca miseria Porca Massimo scusa Buciamo queste piante qua E buttiamo le fuoco Ma sta la palla basta magari comunque per prendere le robe da. Giorgia vuole farsi dei nemici intanto. Fai a fare il boscaiolo guarda qua. Grazie Pyro Hydra. Grazie Pyro Hydra. Ah dopo c'è il cappellino. Cosa ha detto Rosa? Rosa, Giorgia. Ah Giorgia. Ho sentito Rosa. Una carota. Sto prendendo un po' di legna. Eh ma non ci sono neanche i fiore adesso non c'è niente. Eh adesso è dura. È in primavera di aspettare qua. Eh non ce ne voglio. Ma sì adesso facciamo le siringhe e vedrai. Ma non è quel problema e tutto il resto. Ecco le siringhe già c'hai tutta la vita. Eh ma le spreco. Ma senza sanità non ha senso. Allora datemela a me la prossima siringa che io risolvo. Ah che freddo. Se mi date a me la prossima poi riesco a fare roba io. Che a me basta quella. La sanità la prendo davanti al fuoco io. Merda io muoio mi sa. Ma arrivano i cani? Ho sentito bene. Muoio. Infatti un falò. Questa. Io sono così perché non posso veramente. Non posso veramente muovermi dalla mia. C'è una talpa porca puttana se ti ammazza tutta la famiglia di tanti. Buonasera Marco. È tutto posto? Poi ci fuori bastarda. Ah. È morto. Mero qui di fianco. Amici abbiamo della cacca. A sto punto usiamola per le coltivazioni qua. Eh sì troppo troppo troppo. Sì troppo. C'ho freddo io. Ho capito va a fuoco la macchina della chicca. La macchina del caffè va a fuoco. E poi faccio un po' di caffè. È pazzo. Io comunque devo trovare da mangiare perché. Sì sì. Via zara. Dammi la carne marcia. Eh non c'ho più niente sono morto. No. Devo andarlo a riprendere. Ave sono morto un po' di fiamma. Mi date la carne marcia che avete? Eh devo ci secchiare io. Perché? Ma perché? Devo ci secchiare. Per mangiarla. Non devi mangiarla. Ci servono le siringhe. Ma no carne marcia Marco. È il rotto. Non è carne marcia. Cos'è il rotto allora? Mi sono sbagliato. Il rotto ce l'ho io. La putridume. Esatto. Ma lo puoi fare anche dalla carne mi sa. Se va male. Allora diezar adesso recuperiamo le tue e mi faccio la siringa. Eh se rimane lì sì. Allora sparisce l'ora. È un'arma distante più facile da fare. No non si scioglie stranamente la neve intorno. Ma è solo per farti capire che inverno credo. E basta. Eri qua vicino quindi diezar? Sì è qua. Tu ne. Ok. Almeno la rifaccio io e posso aiutarvi di più meglio. Vai qua sopra diezar. E con il mia il metto Marco posso reggere il tue che non per troppo tempo però. Io mi sono messo quello che mi ero fatto con in vista dell'inverno. Quello dei conigli. Le cuffiette quelle di qui qua. No io c'ho il mio elmo con quella battaglia che mi impara tutti i danni. Finché non è quello attivo. Ma quello non si può craftare vero? Sì posso craftare ma posso indossarlo solo io. Ah ok. E se serve troppo forte. Ah la siringa ti cura del 25%. Ah beh comunque intanto. No me ne servono tre. A me ne servono due. Il problema è che sto morendo di fame io. Ma io ormai non mi curro più solo la cavia. C'era un posto con i ragni lì. Ma sono tutti morti ormai. Quelli sopra lì mi ce ne ha Wormle e tutti quanti. Eh un sacco ne ho uccisi. Ma gli ho tutti i casi proprio anche. Eh sì. Eh è un problema per me. Non mi dico davvero. Eh anch'io non ho tanto cibo. Ho 60 di stomaco però dai ancora. Una giornata dovrei riuscire a reggere. Almeno da farmi. Eh no ma qui ci sono 12. Eh no adesso vediamo dai. Cioè vabbè avremmo preso qualcosa. Qualche coniglio. Ok se vi è la canna pesca ma non abbiamo le ragnatele. Vabbè vedi c'è tutti i ragni e dopo i ragnatele. Guarda te. Che cazzo vuol dire? Non è che decido io Esprit. Eh Esprit. La ragnatele è da andare a casa. Esprit ne avevamo un sacco di ragnatele. Le usate per farci i cappellini. Eh eh se no. Ancora ragnatele è ragnatele. Eh sì. Ragnatele è cacca. Ma bastardo scusa. Ma sei morto così. E c'era un mostro che mi ha attaccato. I cappellini di fece. Eh i miei di fame i miei da puoi venire. Ormai io sono bullizzato insomma. Ma sono di nuovo qua fammi prendere la mia. Ma la parte brutta è l'inverno perché poi durante il resto della stagione riusciamo a organizzare. Ho capito ma l'inverno non posso fare niente. Devo rimanere fermo. Ma no è che adesso sei morto tante volte all'inizio e sei incasinato. Tutta una reazione di mare. Grazie a leggenda. Poi comunque è difficile cioè non è un gioco facile. Ma che resi è che c'è? No stiamo al server. Marco ho due di fame io. Come uno di fame? Come? Ti ho detto prima che ho 12 di fame. Ma così tanto? E beh effettivamente si scende. Io avevo 60 e ho 47. Marco io non sto morendo. Esatto. Mi va di morire. C'è il martello ancora Esprit. In culio il martello. Facca sta cacata qui. Aspetta devo morire prima. Ezra poi devi spustarti che io mi appartiglio che muoia quando qualcun altro. Guarda. Vai morire. Non posso più morire adesso. Eh. Oh ma la carne non si assecca voi. Aspetta vediamo se c'è questo. Sei verbo. Ah c'è il maraguri. Ma non la posso riprendere scusa. Ezra quanto hai di fame tu? Rotto morendo. Un po' circa metà. Ok allora prendo io questo. Sto morendo un po' di fame. Scudino grazie. Danne la roba a Marta. Grazie Scudino. C'è un coniglio. Se mi sto parito di freddo di già. Marta tornemola. Vorrei mettermi le cuffiette per sicure. Eh posso anche a 9 da. Aspetta. Buttami tutto. Sono morto di fame anch'io. Dove si fanno le siringhe? In che zona? Vieni qua. Al posto di lamentarti sempre. Ragazzi dove si fanno le siringhe? In che zona? Eh survival. Mi pare il terzo la siringa. Ma non ho niente io. Survival. No survival. Aspetta. Scienza? No survival. Il quarto. Booster shot. Ma non è vero che. Ah poi ci serve quello e quell'altro. Io pensavo solo alla carne marcia. Mi sembrava stare una cosa così fatta. Eh beh. Questa è la roba più complicata tra le tre cose. Ah si è seccata la carne. Sì no è che non aveva senso. Io non ho più cigolo adesso. Eh esatto. Neanche io infatti vado a battare con la carne. Adesso non è il botto. Perché posso battare tutto. Poi non c'è un botto sui cigolo. Allora ho tutta carne. Un sacco di carne io c'ho. Perché si potrebbe ammazzare questo famore. Dai così va già bene. Mi rimetto le cose dentro. Aspetta la vuoi la mia carne? La mia carne di monstratura? No. Come? Un coniglio c'ho. Ha solo uno. Un botto di carne è un coniglio scusami. Però io adesso mi ammazzare un po' di carestia è tanto. Ma nel tempo di carestia ogni giorno che dico vieni qua che c'ho il coniglio. Eh ma adesso è un problema. I fiori non ci sono. Sì amici dobbiamo trovare da mangiare qui assolutamente. Ma c'è una grotta? Qualcuno dentro. Ci sono dei petali che vanno a mangiare. Ma i fiori danno un botto quelli lì d'inverno. Eh? I fiori quelli del bush. Quelli attaccati al bush. Danno un sacco. Sono i fiori attaccati al bush. Eh. Non so cos'altro come altro a spiegartelo. Il cespuglio con tre fiori. Quello. Oh non l'ho mai visto. Il berry bush. Ma sì ma a me quelli danno sempre un sacco. Ah le. Le berry si mi danno veramente tanto. Quelle giù si percosa. Sì bisogna cuocerle tra l'altro che danno veramente. Io non l'ho cotte. Eh no danno veramente veramente tanto. Eh non ce l'ho pensato. Eh gli elzer metti il fuoco guarda. Nella casa fra Morelli possiamo andare a casa con i ragni. Perfetto. Amici non c'è più niente. Rompila. Io rompi i ragni. Oltre che davanti sono. Ah Morelli sono più avanti sono sti ragni. Sono stupidi. E c'è un regalino. Che cazzo pensavi scusa. C'è un regalino. Io posso farmi. Eh muoio muoio. Ma sono morto. Ma ti puoi 10 i ragni. E' un condominio. Non è un accazzato i ragni. Bolo grosso è. Sì. Non mi serve. Eh ma fatti per altri 6 giorni così non ha senso. No comunque lo so ragazzi. Stiamo facendo sempre quando riusciamo. Adesso sono incasinato e sto cercando cibo. E quella è la mia premura. Usare il pagno e le buche. Sì ma devi prendere poi la talpa comunque. Ma se prendo. Se prendo la. Perché dig la canzone di io. Se facciamo ammazzare i ragni lì. Possiamo prendere l'entere e farci la canna a pesca. Beh ammazzare i ragni. Ma sarà esplodimentale. Stai su metà vita sui. Vaffa il culo. Merda Morelli guarda. Tessibili sono quelli eh. Sì. Vito sei andato a rompere gli coglioni. Nella tanna più grossa che potevi trovare. Vito le più che tanna è rimasta. Ti vedete le distrutte. E certo. Guarda che danno un botto di. Di ragnatele se distruggi la casa. Eh sì. Non c'è più cibo oggi. No ragazzi non c'è più cibo. No c'è veramente niente. Abbiamo la cacca in realtà per fare un lavoro. Eh concima concima. Mettici la merda. Cagaci sopra. Spruzza. Spruzza di culo. I can do. Ah. Non posso? Marco che gran figura di merda allora. Io non si può. Marto. Ah ma io puoi. Non so cosa dirti ma non so perché. Non si può fare. Marco è tutta una truffa a questo mondo. C'è il miele. A sto punto lo mangio. Non so. No aspetto. Eh boh perché va male. Io lo mangio. Ma non può andare a male il miele. Eh sì stanno andando a male. Ma non può. Non ce l'ho. Nella realtà non scade il miele. Eh no. È uno dei pochi cibi senza scadenza. Oddio. Ah sì. Cosa vuole un bel dio. È così è appurato. Tu puoi mangiare quello che hanno messo anche insieme ai faraoni quando le erano espolti. Lo mettono la scadenza perché a priori la mettono su ogni cosa. Tecnicamente non serve. Non cresce niente l'inverno. Dove ho già far la serra. Eh è notte. Sono arrivato al pezzo. La bastarda talpa. La bastarda talpa. Io sto impazzendo. Devo stare davanti al fuoco per un po'. Sì ma l'inverno in questo gioco è troppo pescante. Eh no ma è difficilissimo. Non capire andasse così di beri comunque. In realtà mi pensavo morissimo tutti e basta continuamente. Invece stai reggendo un po' di tempo. Io sono da solo con 8 di vita. Non ho più scipo. Mangi i fiori. Io ho un brufolo qua che mi dà veramente... I fiori non danno niente. I fiori in teoria ti danno vita. Sì però cibo proprio zero. Dove sono le mani di merda? Dove cazzo sono? Eccole. Ma in te non c'è stata notte poi cos'è? In caso... Due piedi se non ti prepari all'inverno per bene... In caso se moriamo tutti di nuovo possiamo anche rifare da domani. Adesso che siamo un pochino più esperti. Nel senso... Ma io guarda ce la facciamo comunque. No lo so. Eh dobbiamo fare il frigorifero e stoccare il cibo. Lì. Eh ma non ce la facciamo stoccare il cibo. Tutto quello che c'abbiamo lo... Lo rimangiamo. Perché questo gioco appunto è settato per giocare da soli. No è che bisogna più... No 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 è che devi semplicemente fare più roba di... Più farba. Più a pesca e pescare magari a pesca di un'intorno. Più trappole per colire. C'erano dei giorni in cui non facevamo niente. Io sono andato... A quei giorni dove dovevo fare i vestiti e le pellicce eccetera. Non è che mi sono messo a fare da mangiare. Sarebbe da fare. Poi magari la prossima volta io mi metterei più vicino ai bufali comunque. Perché non è che posso sprecare una giornata per andare a prendere la pelliccia e la cacca. Che sono fondamentali. Se devo averci la portata di mano... Fatica ogni volta. No che skin. Però secondo me le cose che trovi in giro comunque sono settate per un giocatore. Ma allora da solo magari... Essendo da solo puoi organizzarti meglio. Ma si fa eh. Tranquillamente si fa. C'è gente che si è fatta a villaggi incredibili. Ti metti molto più tempo però da solo. Eh capito. Però è tutto il cibo che si usa in quattro ce l'hai da solo. Quindi tutte voi... Per esempio ti puoi fare la... Io mi ero fatto una zona della mappa con le trappole tutto intorno a me. Così la notte quando c'era la notte dei cani. Mi mettevo in mezzo tutte le trappole. Ammazzavo i cani per dire. Mi ero organizzato così. Tutte robe che mi ero cercato online. Consigli eccetera. Me l'ho preso benissimo. Ok. Adesso posso finalmente stare qua. Io devo riprendere la sanità mentale un pochetto. Ma io sto morendo un bel po'. Vado tutto in cibo. Eh ma non c'è veramente niente. Scusa. Sto a tirare un ragno alla volta. Infatti che ormai sto impazzendo durissimo. Ho 21 di sanità mentana. Ok. E c'è anche una supposta rossa in alto a sinistra. Credo quello lì sia lag. Sì perché non sono morto. Ma poi è tutto bianco. Mi fa male agli occhi. Mi fa male. Ok. Due ragni sono qua. Vedete vedete. Dammi il miele. Che figura ragazzi. Non dovevo farlo. Non trovo il dato. Che cazzo ne spongo in sti ragni vorrei dirvi. Infatti il letto Marco consumi fame per recuperare la sanità. Ah ecco. La serve. Il letto? Letto. Sì. E non so neanche come si fa. Io ho preso del miele intanto distruggendo un alveare. Rischiandomela veramente tanto. Io ammazzo un pinguino. Mi rubo tutta la carne. No non ce la faccio amici. Ah io sto volendo di fuori. Sono troppo dolcini. Eh. Piuttosto muoio io. Mi è partita una canzoncina. Che succede? Mi sa di sì. Anche a me è partita una canzone. Vai ma saltano questi. Bastardi. Perché c'è sta cazzucina? Paglia e corda mi pare. La prima volta che ho sentito su Don't Star. Ah è sparito. Paglia e corda. E Slipin'Bag era il saccappello? Come si faceva il saccappello? Non c'ho paura. Sento ormai il mio mondo. Ando a ravane. 5, 6, 7, 8 colpi per matare sti cose. Amici sto morendo di fame. Parli ragazzi quelli gialli. Mangerò il miele tra poco. Che devo fare? Il miele l'ho mangiato io Marco. No ne ho preso altro. Ah ok. Mangia un po' eh. C'è due 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 ciccioli. Aspetta io non si sto mangiando anche. Danno abbastanza il miele. Sì. Pinguine aiutatevi voi. Manto ogni gasso. Piccione. A vedere. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colpi. C'è veramente un glande. Anche però. Per fortuna i conigli li posso mangiare anche se sono mostri. Amici sto uccidendo dei ragni. Mi metto a fare una pesca adesso. Sì questo mi serve. Ok. Lascia stare il pinguino. Maledetta. Schifosa. Ne abbiamo trovati pochi di cespugli di berri in giro. Ma adesso non crescono. Eh bisogna raccoglierli con la palla. Perché quelli li. Sì questo mi può servire. E quelli li sono veramente ottimi. Ma è orgogliosamente scarso. Anche io sto cercando di tornare a casa. Guarda che una pesca qua qua. Che casino ragazzi. Che casino. Ma lascia testare sto pinguino. Glande di ragno. Sì. Glande di ragno. Sempre ottimo. E lo per l'umano. Porca pacche ma non posso. Esprit ti ho una ragnatela. Avete un flint? Sì. C'è nella cassa comunque. Non c'è nella cassa. Mi sembrava di no. Mi sembrava. Credo che quello li. Voglia venirmi ad attaccare. Io sono sopra. Ahia vai. Ahia vai. Dove erano i giusei berry? Mica le ho visti. Dagli mettila nel chest. Mi fate tornare indietro. Se non ci sono per davvero. Però ragazzi. Non funzionava. Se ci avevano detto. Se ne ho mentito. Allora era una gran cazzata delle palle. Quindi in chat sono persone che sono dei pezzi di... Ragazzi vi avete fatto tornare indietro. Ma non ci sono per davvero. E lo quelli che ho visto io. Non c'erano da prendere. Guardi. 8 carna di mostro. Speriamo Silvio. Puoi mangiarla te? Eh la carna di mostro? Sì. Oh ma sta cosa mora te. Via da mia casa. E tu mi metti a impattire. Mamma mia. Ogni giorno. C'è la storia che morai lì. Da notte ho picchiato le tue ombre. Guarda. Eh eh. Ah basta. Guardi. Eh. Eh spri... 8 di sanità mentale. Era buono. Io ne ho 15. Zero di vita. Sì l'ho fatto così qua. Sempre. Sempre io. Ma bada. Merda questo è un altro. Morelli ho preso quel elmo. Ho perso. Forca puttana mi ammazzo. Vatti. Vai via. Ma questo non si può neanche più attaccare. Non si può neanche attaccare. Vai via. Ma è morto male. Mi ha attaccato me. Mi ha attaccato me. Morelli stai ripensando tutti quanti. Vai via. Non era il mio questo. Non era il mio. E io c'ho metà. Di sanità mentale. Ok. Eh devo ricarmi una siringa poi. Io sono full sanità mentale. A parte di picchiarli. Ma è salita anche a me la sanità mentale. Però. Io quando li picchio mi sale. Quindi ottimo infatti. Dovete farmi prendere tutti i... Infatti io ho picchiato l'ombre. Vabbè lì mi sale. Vabbè. Vabbè scende. Bah. Allora io volevo pescare. Ma poi c'è un po' da lì. Mi sento morelli. Mi sembra un flink mi serve. Eh niente. Non posso pescare. Non posso farmi di nuovo. Pazzo. Mi chiederei che finiamo questo giorno. No poi. Mi fai perché non arrivo a pescare. Ma secondo me possiamo anche ricominciare. Perché ormai qui siamo veramente messi male. Avete due di paglia voi? No. Se ne va nella cassa però. Dovrebbe essere questa. Sì sì. Trovate. Eh ma ricominciare non so quanto lo sengono. Devo fare una cosa. Devo fare una cosa. Devo fare una cosa. Devo andare avanti così. Non ha senso. Eh ma una volta a svolare le... Ma non sai. Eh beh. Possiamo fare un nuovo mondo e prepararci meglio. Per frigorifero e tutto. Almeno per resistere. Non abbiamo trovato i gear. Ma in frigorifero cosa è per l'inverno? Ma comunque. Eh no. Ti metti un sacco di cibo dentro in primavera e te lo conservi. Ma sì che ce la fai. Ho fatto io. Ma prima finisca l'inverno. Vediamo come funziona. Infatti anche secondo me. Tanto io ormai sono in vacca. Eh ma continuiamo a stare qua a morire finché. Eh Sky non saprei. Eh ma non posso romperla. Però in realtà anche su Instagram. Però conviene forse su Facebook. Non so come forse. Telegram anche in caso. Posso romperla il ghiaccio che ti è su sta merda. E non... Che fai? Tu su Telegram. Se... Beh. Non... Sei nel... Sei sub. La vedete anche voi quella luce? Le luce. Di qua? Sì. Posso romperla? Doviamo distruggere col martello. Dobbiamo distruggere il mio teschio qua. No superite. Ma io volevo... Ma io li muovo io ragazzi. Perché... Ho pensato di poter rompere la... 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 Ghiaccia del laghetto con un piccolo o qualcosa. Non posso romperla qua. Non puoi farlo col martello forse anche tu. No tutto provato Marco. Che cazzo vuol dire che non posso rompere il ghiaccio scusa? E' un laghetto uno per uno. Fanno rompere il ghiaccio. Dopo per vivere... Ma ci sono... Un sacco di boss, un sacco di cose da fare Joker. Però le devi trovare e devi prepararti. E' veramente... Un pregno di robe da fare. Però... E' dura. Ah io adesso ho 50 di vita scusa. Ho 3 quarti. Non ho metà. Ma lento. Se sei morto 18 volte sì. E' un massimo metà. No no. E' un terzo, un quarto. Ah le ho 50 di vita adesso. E anch'io io ce l'ho... Io ho 38 qui. E' veramente dura. Ma è il comparso bastone di Chester che mi son perso... Sì, non so chi cacchio ce l'aveva. Eccoci. Vabbè. Vediamo domani se riusciamo a fare qualcosa. Siamo al 26, in teoria al 30 quindi dovrebbe passare. Teoricamente dovrebbe tornare alla primavera sì. Oppure al 40. Ah io credo che c'è un modo... E tra la 40 direi che è nulla sì. Ah no. C'è un modo per un po' di game. Non lo vai, mi affancura. Ma io devo rompere quel ghiaccio di merda. Non vogliamo tutti di fame. Eh bravo. Devo andare a fare la carbonara. Devo andare a fare la fonte web che è fastidio sempre. No, devo andare a fare la carbonara. Ci vediamo stasse quindi. Esatto amici. Con... Oh vedremo cosa facciamo. Ah trials. No non so ma è trials. Ma a me andrebbe trials. Eh allora non lo facciamo di sicuro. Va bene Lady Robby ti aspetta. Buonanotte. Buonasera di notte. A stasera. A stasera.